Cari amici, felice giornata, come accennato in un precedente posto, mi trovo qua a Parco Suardi con il mio fedelissimo Dell in sinergia con questo pacco riciclato, sono due moduli, due scatole di alluminio, ne ho trovate una decina in discarica con della componentistica che non serviva più a nulla, per cui ho recuperato i contenitori e internamente ci ho messo le batterie Ecco qualcuno mi chiederà, ma da dove vengono le batterie? Semplicissimo, le batterie erano prima all'interno del computer, qua dietro Le batterie erano praticamente quelle del computer Che cosa succede? Che la batteria dura un anno, ma non è che le batterie sono esauste, non danno più energia Sono praticamente nuove, nel senso che se tu provi la tensione a monte arriva perfettamente Ma a valle no, perché tra il monte e la valle entra a posto un microchip Che a quel punto qua non ti dà più la corrente In parole povere, io ho recuperato delle batterie dei computer portatili e ho le assemblate dentro qua Allora, uno appunto sulle batterie, le batterie essendo tutte a 3,7 volt Io ho due moduli, un modulo che ha 7,4 che è questo qua e l'altro modulo che è un 11,1 La somma delle due tensioni serviva a un 18,6 che è più che sufficiente anche se il D è un 19 Alcuni computer vanno a 16 e altri mi sembra che vanno a 21 Comunque il discorso è che questo è tutto materiale, diciamo, da discarica L'autonomia, come ho già scritto nel mio post, è più che notevole Riesco tranquillamente a vedere tre film da un'ora e venti, un'ora e mezza Senza sosta e non si interrompe proprio niente E se mi limito a stare nel mio sito, andando a vedere ogni tanto qualche videoclip Arrivi ad avere una durata anche di 7-8 ore Ecco, magari il prossimo video ne assemblo un altro Ovviamente questo qua è il mio un attimino rozzo Ma dato che questo qua fa da campione tutte le volte Tra i vari tipi di batterie che recupero In quanto non tutti i computer hanno gli stessi tipi di batterie Per cui ci sono quelle tonde, quelle piatte E a seconda delle dimensioni con quelle piatte posso mettere tutto in un modulo In ogni caso adesso mi sono rivolto a un amico falegname Sto facendo su delle scatole sia di ebano che di noce Ovviamente non con quelle uscite qua Con giusto giusto, col tuo gecchettino Cioè fatte diversamente E' quello che uso io per risperimentare qui il tutto Con questo vi saluto Vedo che qua è il tempo Guardali qua felici e contenti Guarda dove siamo in Belgio 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 Grazie a tutti